Quattrocento anni fa Galileo Galilei pubblicava il Sidereus Nuncius. In questo libro celeberrimo annunciava la scoperta dei cosiddetti pianeti medicei, cioè dei quattro principali satelliti di Giove. Questa scoperta segnò una tappa decisiva nel mutamento dell'immagine del sistema solare e quindi una tappa decisiva nella rivoluzione astronomica che avrebbe portato alla disgregazione del cosmo tolemaico e al trionfo del copernicanesimo, dal mondo chiuso, come recita il titolo di un famoso libro di storia delle idee, all'universo infinito. La scoperta di Galileo ha avuto implicazioni non solo scientifiche nella storia dell'Occidente e del mondo intero. Ma qui interessa soprattutto riflettere su come questa scoperta avvenne. Galileo aveva ricevuto dall'Olanda uno strumento curioso, peraltro ancora molto difettoso. Serviva per diletto a ingrandire la visuale nel corso di un'escursione oppure quando si saliva su una torre per vedere il mondo, il paesaggio dall'alto. Galileo ebbe un colpo di genio, quale? Rivolse il cannocchiale verso il cielo. Non inventò il cannocchiale Galileo, ebbe il colpo di genio di guardare le cose del cielo e non solo quelle della terra. Quello che vide e che non avrebbe potuto vedere a occhio nudo non solo trasformò per sempre la nostra mappa dei cieli. Chiuse la lunga e venerabile tradizione di una scienza che si basava esclusivamente sui nostri cinque sensi e aprì un'altra tradizione. Da allora la scienza affidò alla tecnologia il compito di supportare e di affinare i nostri cinque sensi. Ma Galileo ebbe anche un secondo colpo di genio. Con l'aiuto dei migliori costruttori di strumenti ottici, Galileo perfezionò lo strumento, il cannocchiale, in modo che le sue osservazioni potessero essere agevolmente replicate, in modo che tutti potessero almeno in linea di principio esplorare il sistema solare come lo aveva fatto lui. Da quel momento in poi la scienza moderna si qualifica come un'impresa eminentemente intersoggettiva e collettiva, le due cose. Quindi la conoscenza che replica le osservazioni è un'impresa di conoscenza intersoggettiva e collettiva, non individuale. La tecnologia diventerà un mezzo sempre più importante per lo sviluppo della conoscenza. La tecnologia risulterà contemporaneamente fonte di democrazia e fonte di elitismi. Fonte di democrazia perché in linea di principio viene descritta e annunciata alla portata di tutti. Fonte di elitismi perché di fatto il costo sempre crescente di molte tecnologie rischia di ridurre sempre di più l'accesso diretto agli stessi processi conoscitivi. Quindi fonte di democrazia e fonte di elitismi nello stesso movimento. Dall'astronomia ottica di Galileo alla radioastronomia dei nostri giorni, così come dagli esperimenti condotti sui piani inclinati alle alte energie del CERN, il passo è stato molto lungo. La tecnologia oggi non è più una semplice ancella della scienza, come si usava a raccontarla al tempo della filosofia della natura. La tecnologia oggi è un fattore dinamico che amplifica rapidamente la portata dei risultati scientifici. È capace di superare limiti di pensiero e di azioni che solo pochi anni prima sembravano invalicabili. Gli sviluppi della tecnologia oggi spostano quotidianamente la frontiera del possibile. Questa dinamicità della tecnologia si riflette in una sua estrema pervasività, cioè in una forte capacità di trasformare le forme della vita quotidiana, di trasformare però anche i comportamenti individuali e sociali, la produzione, la trasmissione, l'apprendimento delle conoscenze, gli stessi modi in cui vediamo il mondo. E l'accelerazione delle tecnologie dell'informazione negli ultimi vent'anni sono proprio all'origine, insieme all'accelerazione del processo della globalizzazione ugualmente negli ultimi vent'anni, di una mutazione che in corso di vita la nostra stessa generazione, forse per la prima volta nella storia umana, ha definito epocale, cioè una mutazione antropologica, una mutazione della condizione umana accaduta nel corso di una generazione. Esiste tuttavia un'altra faccia della medaglia. Gli sviluppi tecnologici sono sempre più autonomi, sempre più incontrollabili, sempre più sfuggenti a ogni istanza regolatrice e poi sempre meno condivisi da un'opinione pubblica che ne vede le conseguenze appunto sempre più pervasive e si chiede a giusto titolo se e come sia possibile governare questi sviluppi in modo da favorire e non già ostacolare lo sviluppo umano complessivo, individuale e collettivo. Le relazioni fra scienza e tecnologia negli ultimi anni sono profondamente mutate. Senza dubbio sono mutate sul piano quantitativo per l'esplosione degli oggetti tecnici prodotti negli ultimi vent'anni, ma anche sul piano qualitativo. La tecnologia mostra una crescente autonomia e ingovernabilità rispetto a istanze e a esigenze puramente scientifiche. Questo è un punto di straordinaria importanza per leggere il tema a cui ci avete chiesto di riflettere. In casi importanti si delinea un rovesciamento di posizioni fra scienza e tecnologia quasi completo. Il ventesimo secolo è stato definito già il secolo delle rivoluzioni scientifiche. La scienza è stata rivoluzionata dall'evoluzione della scienza medesima, sia dal punto di vista dei risultati, delle scoperte, sia dal punto di vista dei paradigmi, cioè degli orizzonti, delle grammatiche per vedere il mondo. In particolare dalle origini del Novecento, dalla fisica delle particelle elementari alla teoria della relatività einsteiniana. Lì viviamo una discontinuità radicale rispetto alla linearità del progresso scientifico realizzatasi nel particolare nel Seicento, nel Settecento e nell'Ottocento. Il ventesimo secolo, appunto, il secolo delle rivoluzioni scientifiche, ha prodotto una continua esplosione delle conoscenze scientifiche sulla materia, sulla vita, sulla conoscenza stessa, ma senza che ne conseguissero sviluppi tecnologici immediati. In ogni caso, gli sviluppi tecnologici seguivano il fronte avanzato della ricerca scientifica con ritmi un po' ritardati, secondo una logica che era agevole definire di ricerca teorica di base che poi trainava le applicazioni tecnologiche. Oggi avviene spesso il contrario. La materia intelligente, le biotecnologie, le simulazioni e i mondi immaginari prodotti dall'evoluzione del software, le avanzate capacità di calcolo dei computer, gli automi, gli avatar, gli agenti intelligenti, stanno entrando nei paesaggi della nostra vita quotidiana senza che quasi siano disponibili teorie o approcci scientifici in grado di prefigurare possibilità e limiti di questi stessi sviluppi della tecnologia. Cioè il rapporto fra scienza e tecnologia non è a senso unico e comunque non è più riassumibile nella relazione prima il teorico e poi l'applicativo, prima la scienza e poi la tecnologia. La tecnologia ha preso un andamento autonomo dal presupposto scientifico che oggi ce la fa paragonare a una sorta di sdoppiamento dell'evoluzione biologica. L'evoluzione biologica ha un'autonomia rispetto alle teorie che non c'erano a presiederla, così come la tecnologia oggi ha un'autonomia rispetto alla scienza. Al contrario, motivazioni, scelte, ritmi, tempi, obiettivi della tecnologia sono molteplici, dipendono da molti fattori extra scientifici, economici, sociali, politici e spesso questi obiettivi e queste radici sono contrastanti con le esigenze puramente conoscitive e spesso ancora questi obiettivi sono contrastanti fra di loro. Inizia ad elinearsi una divergenza di itinerari piena di rischi. Da una parte una tecnoscienza che sforna a getto continuo congegne e innovazioni di grande effetto e onnipervasiva, ma che tuttavia è incapace costitutivamente di riflettere sulle conseguenze a lungo termine e a vasto raggio delle sue azioni e degli effetti delle sue azioni. Dall'altra parte un pensiero scientifico più attento, consapevole e tuttavia ha disagio rispetto all'operato della tecnoscienza. Potremmo dire un pensiero scientifico, in certo senso, lasciato indietro dai risultati e dalle invenzioni della tecnologia. È qualcosa di importante antropologicamente. L'evoluzione della tecnologia ha esteso la sfera della responsabilità umana verso nuovi ambiti, ambiti enormi, imprevisti. Tre ambiti almeno. L'evoluzione della tecnologia, soprattutto negli ultimi decenni e in modo accelerato negli ultimi due o tre decenni, ha esteso la sfera a cui si applica la responsabilità umana innanzitutto verso le specie viventi, verso gli ecosistemi naturali, verso il pianeta nella sua interezza. In secondo luogo l'evoluzione della tecnologia ha esteso la sfera della responsabilità umana verso il destino evolutivo, verso la qualità, verso la stessa possibilità di sopravvivenza della specie umana in quanto tale. In terzo luogo, i sviluppi della tecnologia hanno esteso la sfera della responsabilità umana verso la natura umana individuale, cioè verso i suoi costituenti genetici e l'identità biologica della natura umana. Questa triplice estensione della responsabilità umana, dovuta ai progressi, agli sviluppi, all'evoluzione, direi meglio, della tecnologia, ha trasformato, per usare una parola di Hans Jonas, che forse per primo ha riflettuto su queste implicazioni, la natura dell'agire umano. E qui entriamo nel vivo anche della questione politica. Ha trasformato la natura dell'agire umano e ha messo in crisi i presupposti dell'etica moderna. Permettetemi di riassumerli in due battute nell'economia del discorso mio di oggi pomeriggio. L'etica moderna era, come sapete, antropocentrica e poi centrata sull'idea che la tecnica fosse neutrale. L'etica moderna era imperniata sull'idea che la condizione umana fosse stabile e che i fini e le conseguenze dell'agire etico fossero vicini, prossimi, sia nello spazio che nel tempo, all'atto stesso e quindi prospettabili, prevedibili, controllabili. L'evoluzione della tecnologia ha mutato la natura dell'agire umano e ha cambiato l'orizzonte all'interno della quale, in qualche modo, Immanuel Kant per tutti aveva codificato, riassunto questi principi che ho poc'anzi sintetizzato in modo brusco. La mutata natura dell'agire umano mette in crisi proprio questa impostazione. La biosfera, l'ecosfera, la geosfera sono diventati oggetti estesi della responsabilità umana e la tecnica non è più considerabile eticamente neutrale né verso l'ambiente esterno né verso l'ambiente interno, cioè la natura umana. La ricerca del bene non può più essere ristretta alla sfera delle relazioni fra persone, diretta. Il fine in sé, Kantiano, viene esteso anche a tutti gli esseri viventi e alla natura nel suo complesso. L'intervento tecnologico, che oggi è sempre più estesamente intervento biotecnologico, viene persino potenzialmente a toccare la nostra concezione dell'identità umana e ne mette in discussione la stabilità evolutiva. Così le conseguenze delle azioni umane si dilatano, si dilatano nello spazio, perché eventi di portata apparentemente locale raggiungono sempre più frequentemente dimensioni globali e poi si dilatano le conseguenze delle azioni umane via le nuove tecnologie nel tempo e proiettano la responsabilità della specie umana sul proprio destino e sulla qualità della vita delle generazioni future. Anche il futuro diventa oggetto di una responsabilità quanto mai ineludibile. Nel contempo l'evoluzione e i grandi successi della conoscenza scientifica, quindi non dell'evoluzione tecnologica, della conoscenza scientifica, hanno prodotto una rivoluzione epistemologica, cioè una rivoluzione nel modo in cui intendiamo qual è il rapporto fra scienza e i mondi di cui la scienza si occupa per conoscerli. E anche questa rivoluzione epistemologica prodotta via via, a partire dalla rivoluzione quantistica e dalla rivoluzione relativistica, ma poi soprattutto dalla seconda metà del Novecento, come vedremo, anche questa rivoluzione epistemologica è molto importante per il tema che ci occupa oggi, anche dal punto di vista della concezione della democrazia e della politica. Questa rivoluzione epistemologica induce a guardare da un altro punto di vista la questione delle conseguenze delle azioni umane. Si è rivelata errata l'idea che sulla base delle leggi scientifiche, della conoscenza delle leggi scientifiche, si possa anche nel caso dei sistemi complessi anticipare il decorso futuro degli eventi e quindi operare per controllarli e per orientarli. Come sappiamo, uno dei grandi criteri di scientificità delle teorie scientifiche, consolidatosi in particolare nel Settecento, nell'Ottocento e nella prima parte del Novecento, cioè uno dei criteri che ci aiutava a distinguere una teoria scientifica da una teoria non scientifica, era la capacità o meno di una teoria di renderci in grado di prevedere il comportamento di un sistema oggetto di studio. Una volta conosciute le leggi del comportamento di un sistema e lo stato attuale in un tempo TX del sistema, noi siamo in grado di prevedere lo stato futuro, i comportamenti futuri, diciamo, di questo sistema e questo è diventato un criterio della scientificità to cure di ogni teoria scientifica. La grande rivoluzione che a causa dei successi stessi della scienza avviene progressivamente in modo sempre più ineludibile nel Novecento è che, perché a causa degli stessi risultati scientifici, perché nel Novecento si comprende che non è applicabile il principio di estrapolazione a tutte le regioni dell'universo, cioè che il modo in cui conosciamo come stanno le cose qui e ora sarà lo stesso modo in cui conosceremo altri tasselli, come diceva Galileo, dell'immenso mosaico della natura. Quindi il principio di prevedibilità in linea di principio esaustivo che ci faceva dire l'imperfezione delle nostre previsioni è semplicemente l'indizio della provvisorietà, della incompletezza della nostra teoria, incompletezza contingente, ma non ci rivela nulla circa la struttura reale, avremmo detto una volta, della materia. Bene, questa idea si è rivelata errata e questo non perché non esistano leggi e regolarità che governino lo sviluppo dei sistemi complessi, che poi sono la stragrande maggioranza dei modi in cui la materia è organizzata nell'universo, ma perché leggi e regolarità che governano i sistemi complessi possono darci al meglio solo risultati probabilistici, mai risultati certi. Il grande punto di svolta è avvenuto con l'avvento della teoria appunto dei sistemi complessi a partire dagli anni 60-70 con la teoria del novecento, con la teoria del caos per esempio. Allora si è compreso che anche per sistemi relativamente poco complessi, di cui persino si conoscono le equazioni deterministiche che ne regolano lo sviluppo, è impossibile costruire sui tempi lunghi le traiettorie precise del loro sviluppo futuro, se non conoscendo con una precisione infinita le condizioni iniziali di questo sviluppo. E queste condizioni non sono conoscibili, ma non contingentemente, transitoriamente, non sono conoscibili dall'osservatore umano, in quanto l'osservatore umano partecipe e non esterno alla costituzione di queste stesse condizioni. Dati due sistemi definiti in questo senso complessi o caotici, basta uno scarto infinitesimale fra le loro rispettive condizioni iniziali perché il loro comportamento futuro diverga macroscopicamente. E questa la base teorica del cosiddetto effetto farfalla, che è diventato la metafora per definire la natura della complessità sistemica. Lo elaborò qualche tempo fa il grande meteorologo Lorenz, non l'etologo, il meteorologo quando disse il battito d'ali di una farfalla, e quanto mai oggi questa riflessione attuale, il battito d'ali di una farfalla sul cielo di Tokyo, quindi una piccola causa infinitesima, trascurabile, se non magari dall'osservazione di un poeta, avrà effetti macroscopici sul tempo che farà fra una settimana a Pestum, a indicare appunto che piccole, trascurabili condizioni possono avere effetti macroscopici importanti e non linearmente prevedibili né dalla conoscenza delle leggi, in questo caso del sistema meteorologico, né dalla descrizione del sistema meteorologico nel tempo Tx, che abbiamo considerato. Badate bene, tutto questo non equivale affatto all'impossibilità di dire qualcosa di sensato ed importante sul piano scientifico, sul decorso futuro del sistema che di volta in volta studiamo. Per un sistema naturalmente non tutti i comportamenti sono possibili in questa o in quest'altra fase del suo sviluppo. Tutto ciò porta però a reinterpretare la nozione di legge, di legge di natura o di legge scientifica o di legge tout court come vincolo che regola ma non determina lo sviluppo futuro di un sistema complesso. Le leggi proscrivono, le leggi non prescrivono univocamente come accade per le regole dei giochi interessanti che giochiamo anche a scopo ludico. In altre parole le leggi determinano un enorme spazio di possibilità per lo sviluppo futuro di un sistema ma quale sia poi la traiettoria effettiva che seguirà lo sviluppo del sistema dipenderà da quella che noi chiamiamo contingenza, cioè dal ruolo costruttore dei singoli eventi, quindi dalla dimensione storica insomma. E questo ruolo non può essere preventivamente determinato nel senso delle leggi deterministiche, tant'è che un grande scienziato dell'evoluzione, forse il più grande degli ultimi cent'anni o forse anche il più grande dopo Darwin, Steve Jay Gould, scomparso qualche anno fa, molto giovane ancora, ha paragonato addirittura la storia della natura, l'evoluzione biologica delle specie come ad un film che noi possiamo guardare, vedere come va a finire, poi possiamo virtualmente riavvolgere la pizza, come si diceva ai miei tempi, comunque il DVD, riguardarlo dall'inizio e il finale sarà sempre diverso, proprio per le ragioni che dicevo prima, che l'evoluzione dei sistemi complessi sono sensibili a delle singolarità non riducibili a equazioni deterministiche o comunque a nessun determinismo storico. Per quanto riguarda le vicende umane, quanto ho detto finora, cambia completamente la relazione con i fatti, anche se riteniamo di avere una valida conoscenza delle leggi che regolano un sistema di studio o di azione, non basta monitorare le sue condizioni iniziali per dare per scontato che il sistema seguirà uno sviluppo lineare e conseguente alle nostre previsioni o aspettative originarie. Al contrario, dobbiamo osservare costantemente i comportamenti del sistema in questione, che è passibile di evoluzioni non lineari, di salti, di discontinuità, di comportamenti imprevedibili e sorprendenti. Allo stesso modo, se vogliamo realizzare i nostri obiettivi originari, dobbiamo interagire spesso con il sistema in questione e monitorare attentamente i risultati delle nostre interazioni. L'arte del governo dei sistemi complessi è oggi in fase di elaborazione e progettare sistemi umani complessi non significa eseguire programmi predefiniti e predeterminati, secondo una logica che ha segnato molto anche il rapporto fra scienza e politica nell'Ottocento e nel Novecento. Significa concatenare scelte strategiche pronte ad apprendere dagli eventi e dalle contingenze che costantemente mettono in discussione i presupposti di partenza. Imprevedibili non sono soltanto e non sono tanto le conseguenze specifiche delle nostre azioni. Imprevedibili sono soprattutto le dimensioni delle conseguenze. Imprevedibili sono gli spazi e i tempi dove si realizzeranno le conseguenze. In linea di principio, ogni azione può avere conseguenze globali e su tempi lunghi. Ciò impone di adottare, come criterio nelle scelte, un principio di precauzione, cioè non dare mai per scontate le conseguenze delle azioni, considerare sempre molteplici scenari possibili e alternative differenti, prefigurare contromisure nel caso si realizzi lo scenario peggiore o, come spesso accade, uno scenario addirittura non anticipato e non anticipabile. Precauzione non significa però passiva in azione o indisponibilità al rischio, significa attiva costruzione di ridondanza e di flessibilità. Se vogliamo che la scienza e la tecnologia possano essere un'opportunità piuttosto che un impedimento per affrontare i grandi problemi dell'età contemporanea, dobbiamo anche riflettere però, e questo è l'ultimo problema che vi sottopongo, dobbiamo anche riflettere sui grandi cambiamenti che oggi coinvolgono le condizioni in cui si sviluppa la ricerca scientifica e la ricerca tecnologica, le condizioni e le prospettive della ricerca scientifica e tecnologica. Quella dello scienziato, così come quella del tecnologo, ma soprattutto quella dello scienziato, che ha vita più antica, non è sempre stata una professione. Non era una professione quella dello scienziato nella fase ascendente della modernità, nel 600, nel 700, l'attività scientifica era coltivabile in forma amatoriale, soprattutto dai possidenti, dal clero, dai rappresentanti delle professioni liberali, avvocati, medici, commercianti. Ancora Chas Darwin, nel XIX secolo quindi, era un perfetto rappresentante di questa fase amatoriale della scienza moderna. E l'ampiezza dei risultati è lì a testimoniare la libertà d'azione e divisione che spesso questa condizione di dilettante consentiva. Solo nei casi più fortunati, forse più fortunati, un monarca assoluto come i medici per Galileo, Rodolfo d'Asburgo o per Keplero intratteneva un rapporto di committenza personale con lo scienziato. E questo rapporto, come anche nel caso dei filosofi, peraltro, aveva le sue opportunità ma anche i suoi rischi, essendo molto sensibile ai capricci e agli arbitri del committente. A un certo punto però si delinea una svolta decisiva e questa svolta decisiva si produce agli inizi dell'Ottocento. In due grandi potenze, continentali soprattutto, la Francia di Napoleone e la Prussia di von Humboldt, si sviluppò la consapevolezza che la scienza, anche e soprattutto per il tramite della tecnica, stava diventando uno strumento fondamentale per il benessere economico e anche per la potenza militare degli Stati. Lo Stato nazionale, che è il mattone della geopolitica moderna, diventa il committente quasi esclusivo degli scienziati. L'università diventa il luogo privilegiato in cui si conducono le ricerche. Io, anche in aula, in Parlamento, ho suscitato una riflessione di questo tipo, ho cercato di suscitarla, soprattutto nelle mie interazioni con il Ministro Gelmini, ma le mie osservazioni sono state eluse e considerate da filosofi. E la concezione che dei filosofi all'attuale classe dirigente di questo governo non è fra quelle, Elisabetta, che ci possono gratificare di più. L'esperto e lo specialista diventano le figure quasi rituali di questo grande investimento sulla conoscenza per gli sviluppi della cosa pubblica. La committenza statale, con tanti alti e bassi e con tante situazioni particolari, risulta in genere una mescolanza assai particolare di finalizzazione e di flessibilità. Questo è un tema cruciale perché entrambi questi due protagonisti dello sviluppo della scienza e della tecnica, lo Stato-Nazione e l'Università, oggi vivono una crisi che non è dovuta ai peccati morali di una classe universitaria o non solo a questi, dedita magari a concorsopoli o parentopoli, una crisi strutturale legata appunto alle trasformazioni rapide che la globalizzazione e lo sviluppo delle tecnologie e dell'informazione hanno provocato soprattutto negli ultimi vent'anni. Lo Stato esige indubbiamente un ritorno dai suoi investimenti dall'Ottocento in poi. La scienza e la tecnica sono percepiti come mezzi indispensabili sia la guerra economica fra le nazioni e anche la guerra in senso proprio. Tuttavia, questo ritorno richiesto, auspicato dallo Stato finanziatore è pensato nei tempi lunghi e in forme complessive. Il singolo ricercatore, lo scienziato, può avere ancora la sensazione di perseguire la conoscenza per la conoscenza, che è l'idea che della conoscenza si fa lo scienziato nello Stato nascente, lo scienziato galileiano, newtoniano, conoscere per conoscere. Questa sensazione spesso è davvero molto di più di un'illusione pura e semplice nel rapporto fra Stato e scienza nell'Ottocento e nel Novecento. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale per venire più vicini a noi e della Guerra Fredda ancora più vicini a noi hanno ulteriormente rafforzato la presa dello Stato sulla ricerca scientifica. L'escalation atomica alla fine della Guerra Calda e agli inizi della Guerra Fredda ha mostrato quanto rischiosa potesse essere una tale presa dello Stato sulla scienza. Tuttavia, anche nei momenti di maggior indurimento bellico, la politica degli Stati nei confronti della ricerca, della ricerca scientifica e tecnologica, ha mostrato un aspetto di ridondanza e di flessibilità e persino di saggezza. Gli Stati Uniti e anche l'Unione Sovietica tendevano a erogare finanziamenti orientati su percorsi molteplici e diversificati e in molti casi lo scienziato poteva sentirsi pienamente autonomo anche in contesti molto finalizzati. Oggi questa età è finita per sempre, è finita col Novecento, con le tante altre cose che anche Ciliberto ho detto questa mattina che sono finite col Novecento. Lo Stato non è più l'attore prevalente di finanziamento della ricerca scientifica e tantomeno della ricerca tecnica. L'ingresso su vasta scala dei privati in questo contesto è indubbiamente aspetti ambivalenti. Risulta spesso fortemente innovativo, favorisce intrecci esemplari di creatività ed efficienza che hanno condotto a sviluppi molto rapidi e molto innovativi con una notevole accelerazione dei ritmi tradizionali della ricerca. Ma altrettanto sovente l'obiettivo dell'efficienza ha prevalso unilateralmente sull'obiettivo della creatività. La ricerca del risultato a breve termine rischia di ostacolare piuttosto che agevolare le prospettive più a lungo termine. Il ricercatore si muove nell'ambito di un'attività molto più rigidamente finalizzata di quanto non lo fosse al tempo del predominio degli stati nazionali e spesso il ricercatore deve adottare ritmi estranei alla ricerca tradizionale. Velocità e orientamento al risultato immediato prevalgono sulla criticità sulla riflessività sui tentativi di imboccare strade poco battute sull'apprendimento dalle prove e dagli errori. Questa moltiplicazione delle forme e della finalità e delle finalità dell'impresa scientifica e tecnologica porta conseguentemente a una divergenza se non a un vero e proprio conflitto di valori. Non è detto che nelle imprese scientifiche e tecnologiche dei nostri giorni i valori della conoscenza e i valori del profitto possano essere facilmente armonizzati. Anzi, il più delle volte vi è un conflitto fra le priorità. O i valori economici assumono la priorità e alla conoscenza viene attribuito un ruolo subordinato oppure avviene l'esatto contrario. E tutto questo in un tempo di risorse limitate ma le risorse sono sempre limitate ha notevoli conseguenze pratiche. L'istanza prioritaria tende a occultare le ragioni dell'istanza giudicata subordinata. La comunicazione scientifica tende a ignorare o addirittura è strutturalmente incapace di comprendere tale fonte di conflitti nella scienza e nella tecnologia contemporanea. Continua a pensare di narrare diffondere rendere popolare la scienza con la S maiuscola una indissociabile quella che conosce per conoscere. In realtà qualunque esposizione apparentemente neutrale delle ricerche e delle controversie scientifiche non può non essere governata da scelte di valore da interessi e da obiettivi niente affatto neutrali. Per comprendere qual è la posta in gioco vi propongo visto che Davide mi dice che ho ancora sette minuti semplicemente un esempio e poi lascerò a massimo l'altra parte del testo se vorrà farne un un qualche uso. La scienza è un terreno di conflittualità permanente non esiste un tribunale superiore che possa decidere quali valori siano fondati o rispettivamente non fondati dalla scienza di conseguenza la scienza stessa non può essere un tribunale su cui fondare giudizi di ordine politico o sociale. La scienza è intrecciata al gioco continuo interminato delle attività umane se i politici devono ascoltare la ragione degli scienziati anche gli scienziati devono ascoltare la ragione dei politici e entrambi scienziati e politici devono ascoltare la ragione dei cittadini e l'esempio con cui concludo è questo uno dei tratti politici o meglio uno dei conflitti politici culturali scientifici cioè che dividono la comunità politica la comunità culturale la comunità scientifica più caldi e importanti dei nostri giorni è quello che concerne l'energia nucleare i sostenitori dell'energia nucleare tendono a presentare come puramente oggettive le loro argomentazioni tendono a definire le loro scelte neutre sul piano dei valori oppure volte a sostenere come unico valore possibile un realismo statico e di corta veduta la loro argomentazione apparentemente semplice dato che i combustibili fossili prima di tutto il petrolio tendono a esaurirsi e dato che attualmente le fonti di energia rinnovabile sono poco affidabili per ottenere un'energia stabile ed economica è necessario puntare sul nucleare naturalmente a queste ragioni presentate come oggettive si possono contrapporre altre buone ragioni presentabili come altrettanto oggettive per esempio i costi necessari per la costruzione degli impianti nucleari più i costi necessari alla loro sicurezza che rimane peraltro relativa più i costi necessari alla loro dismissione in pochi decenni indispensabile per la sicurezza più i costi necessari e lo sbaltimento delle scorie comunque problematico tutti questi costi sommati insieme sono di gran lunga superiori agli investimenti di ricerca e sviluppo necessari per garantire l'immagazzinamento e la distribuzione delle energie rinnovabili già oggi praticabili e quindi per garantire la loro piena efficienza ma il punto non è qual è più oggettiva delle due informazioni il punto centrale è un altro non siamo di fronte non siamo di fronte a un conflitto di idee sulla valutazione oggettiva di dati siamo di fronte a un conflitto fra culture fra valori fra prospettive che interrogano la democrazia e la politica la scelta a favore del nucleare è coerente con alcuni valori quali sono li riassumo per le esigenze del tempo anche nostro così i valori della scelta a favore del nucleare sono il centralismo l'economia pianificata dall'alto una cultura incline a definire soluzioni moniste o monocentriche il nucleare come unica soluzione dominante che sostituisce il petrolio come unica soluzione dominante l'ineguaglianza e la conflittualità dovuta alla disparità della distribuzione delle risorse la scelta a favore delle energie rinnovabili è coerente con altri valori quali sono la rete la complementarità e la cooperazione fra progetti dall'alto e progetti dal basso una cultura incline a definire soluzioni pluraliste e contestuali cioè sono necessari mix differenti e spesso mutevoli delle varie fonti di energia rinnovabili per paesi diversi per obiettivi diversi per momenti diversi soprattutto nucleare è una tecnologia niente affatto come si dice event friendly anzi è forse event enemy sono moltissimi gli eventi imprevisti e imprevedibili secondo la logica dei sistemi complessi di cui vi ho parlato all'inizio che possono fare deragliare l'ordinario funzionamento di un impianto con potenziali conseguenze letali nei confronti degli esseri umani e dell'ambiente non solo nei confronti delle generazioni presenti ma anche delle generazioni future al contrario il pluralismo il pluralismo stesso in se stesso e la messa in rete delle fonti di energia rinnovabile è garanzia di una ridondanza di fonti anche nei confronti di possibili crisi locali che comunque non assumerebbero forme devastanti per l'ambiente e per le generazioni future certo il loro costo ambientale non è nullo gli impianti per l'immagazzinamento e le reti per il trasporto delle energie prodotte dalle fonti rinnovabili occuperanno molto spazio ma ciò impallidisce di fronte al rischio della contaminazione quasi perenne di vaste aree come sta accadendo oggi in Giappone la scelta la scelta di quale prospettiva energetica oggi privilegiare non è comunque una scelta tecnica non è una scelta tecnica una scelta politica e che anche rimanda all'idea di democrazia mette in gioco le nostre concezioni della società del progetto della cittadinanza della conoscenza dell'azione umana quindi della democrazia e dello sviluppo umano nel senso di Amartya Sen sempre più spesso nell'età della globalizzazione e della crisi ecologica c'è una divaricazione di prospettive e concludo fra chi considera prioritari i valori del profitto a breve termine e chi prende sul serio la triplice assunzione di responsabilità che ho evocato prima dell'azione umana mettendo al centro le prospettive appunto di sviluppo umano e di sostenibilità sociale e ambientale nell'ottocento il pensiero anche delle filosofie che sono state alla base dei progetti politici ed economici della sinistra sono nati da riflessioni di questo tipo la scienza e la tecnica non solo non sono neutrali rispetto a un tale conflitto di valori ma in questo conflitto sono una linea di fronte molto calda è bene che l'incalzare della questione energetica in questi mesi se fosse stato bisogno e della questione ambientale nel suo complesso ci abbia reso pienamente consapevoli di questo fatto concludo così se sapremo fare scelte coerenti in questo conflitto di valori che non è decidibile sul piano tecnico a favore della sostenibilità e dello sviluppo umano in ambito scientifico e tecnologico non sulla base della scienza e della tecnologia ma all'interno dello sviluppo della scienza e della tecnologia saremo ugualmente orientati a riprogettare dopo il novecento in questo senso i nostri scenari sociali urbani economici istituzionali organizzativi e quindi in buona sostanza l'idea della democrazia grazie